Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Secondo video di giornata. Di cosa parliamo oggi? Beh, cosa si può mai parlare se non di quella cosa lì che ci fa venire la pelle d'oca? Cioè il tridente. Il tridente perché è vero che due indizi non fanno una prova, ne servirebbe almeno un terzo, ma stiamo avendo qualche indicazione ben definita. E Vladimir, questo ibrido grottesco che è stato generato, sta funzionando. E questo risponde un po' alla domanda che faceva Allegri, ho 52 anni e ancora non ho capito cosa significa giocare bene e giocare male. Penso che la risposta sul giocare bene e giocare male, che cos'è, sia abbastanza soggettiva. Io vi do la mia risposta, e cioè secondo me una squadra gioca bene quando è efficace nella fase offensiva e nella fase difensiva. Per questo vi dico che nel primo tempo la Juve non ha giocato bene. Perché è vero che a livello di occasioni qualcosa c'è fatto, forse numericamente di occasioni importanti, perché di quelle parliamo se fai il tiro dalla rimessa laterale che finisce fuori, non lo conta come occasione da gol, ma occasioni vere e proprie. Forse vive Sassuolo nel primo tempo, per quanto ci sia stato un Sassuolo più arremmante e più volenteroso di fare la partita, siamo lì. Però tu, a livello difensivo, non hai fatto una buona partita. E quindi per me hai giocato male. Nel secondo tempo, invece, hai giocato bene. Perché hai giocato bene? Perché hai creato tante occasioni importanti e hai concretizzato pure un gol, beccato due pali e tante altre occasioni che potrebbero tramutarsi in gol con un miracolo del portiere. Quindi la Juventus è stata presente effettivamente nella metà campo del Sassuolo e nell'area di rigore del Sassuolo, cosa che invece nel primo tempo non era accaduta. Aggiungo io, non solo. Hai giocato bene anche in fase difensiva. Perché tante volte viene messo da parte questo aspetto. Ma ragazzi, la fase difensiva, la difesa, è importante tanto quanto l'attacco nel calcio. Non è che se ne fai una e l'altra no. Tanti mi hanno sempre esaltato Zeman. Zeman, credo, è uno dei più grandi nella costruzione della fase offensiva, nella fase difensiva con la Brodo. E quindi non può essere considerata una squadra perfetta. Siccome la squadra perfetta è quella che ti fa due gol e non subisce mai tiri in porta. Magari fa anche tre, quattro, va bene. Però a me la squadra piace quando è anche concreta. Quando è anche quadrata, solida. E attenzione, non significa difendere. Perché secondo me, ieri sera, abbiamo assistito ancora una volta al termine di questo processo di 4-2-3-1 a centrocampo storto. A iniziò era Rabiot, poi era McKennie. Rabiot non ci ho mai visto niente come esterno di sinistra nei quattro. Su McKennie qualcosa in più, perché ti dava senso alla fase offensiva, perché andava a riempire l'aria di rigore, creava occasioni di testa, cosa che Morata invece non era bravo a fare. Ora che invece abbiamo una predisposizione offensiva diversa, McKennie in quella posizione mi sembra un po' sacrificato. Diciamo così. Ma io ve lo dico da quando c'era Pirlo l'anno scorso. Io non sono un grande amante del calcio a geometria variabile. Non mi piace questo continuo voler fare una roba, poi un'altra, abbassare uno, stringere l'altro. A me piace che il giocatore vada ad occupare la posizione di campo che tanto gli è più congeniale, e soprattutto più sensata, perché io parlo sempre di efficacia più che di bellezza. Non è estetismo, è efficacia. Quindi a me va bene che Dybala mi vada in giro per il campo, che Dybala mi parta un po' più sul centro-destra, che mi venga a prendere il pallone sul centro-campo, sulla tre quarti, perché Dybala questo fa. L'importante è che poi ci sia qualcuno in grado di beneficiare di questo movimento di Dybala, cosa che, a quanto abbiamo visto, con Vlaovic funziona. Il migliore Dybala, ieri sera, abbiamo visto nel primo tempo, per un motivo, giocava per via centrali. Con l'ingresso di Morata, e quindi quando abbiamo spostato il focus, dato che abbiamo difeso con le due linee da quattro nel primo tempo, e anche male per via di McKennie lì, che è andato un po' a snaturare le sue caratteristiche, quando abbiamo difeso attaccando, quindi con il tridente, quindi tenendo alti Dybala e Morata, e tenendo i tre centrocampisti dietro, anche se McKennie comunque si buttava sempre in avanti sulla tre quarti, è cambiato tutto. È cambiato tutto, perché la Juventus, Allegri te lo dice al club, apri la finestra aria, la formazione in questo momento, ragazzi, si fa da sé. La formazione della Juventus in questo momento si fa da sé. Perché questa è una squadra che ha bisogno di qualità negli ultimi metri. Ed dicevo prima, i Windizi non fanno una prova, ma tutta la partita col Verona e il secondo tempo col Sassuolo, con Vladimir si è visto tutto di diverso. Ci sono viste più palle e gol. Ed è quello che dicevo anche nelle pagelle di oggi, no? Questa non è una squadra che gode nel difendere. No, non lo è. E glielo dice uno che si è esaltato. Io sono andato a Barcellona, a Cannou, a vedere il ritorno di Champions League, dove abbiamo vinto 3-0 l'andata, finisce 0-0 con la partita. Io mi sono esaltato nello 0-0. Perché non bisogna mai prendere per valori assoluti il bisogna sempre vincere attaccando, bisogna sempre spingere, bisogna sempre qua, bisogna sempre là. No, non funziona così. Nel calcio, chi è quello bravo? Quello che capisce che squadra è in mano e di conseguenza si adatta alla squadra che ha in mano. Quella squadra là, che è la squadra di Cardiff, ragazzi, se diceva che non prendeva gol, non prendeva gol. C'è poco da dire a girarci intorno, non prendeva gol. Questa squadra, se dice che non prende gol, lo prende. Lo prende. Poi, la sensazione è che sia comunque complicato fare gol a questa Juve, però il Risalas solo tira tante volte verso lo specchio della porta. Non crea chissà quali occasioni super concrete. Il gol che trova è un jolly, un coniglio estratto dal cilindro da parte di Traoré. Ma questo non significa che non subiamo. Questa è una Juve che subisce. Poi, che si sia aggiustata la fase difensiva, io sono d'accordo, è ora di fare lo step successivo. E anche questo Allegri te lo dice al club. Io parto sempre dalla fase difensiva, va là giusto e poi inizio a passare oltre alla fase offensiva. Noi fino a questo momento abbiamo faticato, perché non potevamo creare una fase offensiva di livello se non sbilanciandoci completamente. E l'abbiamo visto in diverse occasioni, mi vengono in mente due partite su tutte, che sono quella con lo Zenit e quella con la Roma. E se volete anche quella con la Sampdoria, in Coppa Italia, dove però lì la Sampdoria è un avversario poco allenante. Zenit e Roma, quando è che sei riuscito a diventare efficace? Quando ti sei spento tanto in avanti? Perché questa non è una squadra che gode nel difendere. Questa è una squadra che gode nell'attaccare. In tanti. E poi si scopre per forza di cose. E infatti con la Zenit ne prende due, con la Roma ne prende tre. Il punto nuovo, inedito, di questa Juve, è che con il Tridente, e difendendo con quattro difensori e tre centrocampisti, e tenendo alte tutte le ponte, un po' sugli esterni, di Valle Morata e Vlovic centrali. Difendi attaccando. Non so se avete visto la partita che ha fatto l'Elite. La partita che ha fatto l'Elite è stata monumentale. Ha mangiato la pappa in testa a tutti gli attaccanti del sassuolo. Tutti. Da Scamacca, a Berardi, a Raspadori, tutti. E ha mangiato la pappa in testa. Perché questo è un giocatore che sull'anticipo è fenomenale. Davvero fenomenale. E si spingeva dentro, si buttava dentro, come se fosse una mezzala di inserimento. Ha rischiato di fare due gole e un assist. Ieri sera il difensore centrale che ha mangiato la pappa in testa agli altri. Perché si esalta, gode, in questa cosa, nel difendere avanti. Fino adesso abbiamo sempre difeso in maniera posizionale. Abbiamo sempre difeso all'indietro. Perché c'era una squadra che non riusciva ad esaltarsi. O doveva comunque esaltarsi spingendosi tanto in avanti e quindi rischiando di diventare una groviera. La caratteristica nuova di questa squadra è proprio questa. Che sembra riuscire a fare la partita e a non subire troppo agli avversari. Ragazzi, so che sembra una follia, però abbiamo giocato meno di 90 minuti con l'Elas Verona, con Vladimir, e 40-35-30 con... Ieri sera con... Cazzo abbiamo giocato ieri sera. Con il Sassuolo, con Vladimir. E abbiamo fatto due gol con l'Elas. E abbiamo fatto uno, appunto, con il Sassuolo. E sono tre gol fatti a zero subiti con questi tre in campo. Quindi mi pare di capire che la fase difensiva funziona. Funzioni egregiamente anche così. Sì, poi c'è un test provante, che è quello dell'Atalanta, domenica. Ma credo proprio che si sia trovata la quadra, non dico definitiva, perché di definitivo non c'è niente e sicuramente si potranno trovare anche partite lungo il cammino in cui, magari, essere così spregiudicati si rivelerà un'arma a doppio taglio. Però quello che vi dicevo prima su Dybala, secondo me, è l'emblema di tutto ciò. E cioè, il Dybala nel primo tempo, per vie centrali, registra offensivo di livello altissimo. Veramente di livello altissimo. Nel secondo tempo, meno Dybala. Ma perché? Perché non gioca più dentro il campo. Gioca più sull'esterno, spostato sull'esterno. E allora un po' ne risente. Però Dybala c'ha la giocata, c'ha i piedi, c'ha la visione, c'ha il dribbling, c'ha il tiro, c'ha l'assist. Te la può fare in un qualsiasi momento. La giocata, anche lì, anche se non è così dentro al campo, anche se non funziona esattamente così, poi c'è un'altra, in realtà, dettaglio, che se Dybala, in realtà, decide di venire dentro al campo, quella corsia viene lasciata libera per Quadrado, che se gioca terzino con Dybala ala, ha tutta la possibilità del mondo di andare dentro. E allora ecco che questo è un altro passo in avanti per aumentare anche la qualità di Dybala. Ma Dybala è un giocatore della Juventus. E non è la Juventus che deve giocare per Dybala. È Dybala che deve giocare per la Juventus. Secondo me, ieri si è messo a completa disposizione della squadra ed è diventato un giocatore totale a tutto campo. Secondo me ha fatto una grandissima partita ed è questo il punto. Quando tutti i giocatori si mettono a disposizione, quando tutti i giocatori sono bene o male nelle loro posizioni naturali, se vogliamo, stecca solo Dybala in quella posizione lì, perché lui deve essere più dentro. Ma ecco che se Dybala inizia a entrare anche dentro al campo, lasciando la corsia libera a Quadrado, la Juventus attacca con Quadrado Dybala, Vlaovic, Morata e McKennie che si butta dentro. Non mi pare poco. Poi, secondo me, Locatelli è due spanne sopra Arthur. E quindi giocherà lui. E poi c'è l'ultimo posto al centrocampo che se lo può benissimo giocare Arthur, alzando Locatelli, perché lo sappiamo che Locatelli e Arthur insieme comunque danno qualcosa in più. Ma attenzione, perché Zacharie e Rabiot, che sono giocatori di quantità, potrebbero essere loro addirittura i due titolari al fianco di Locatelli, proprio per cercare di sostenere quel peso del tridente. Quindi Allegri ha tante possibilità, ha tanti assi nella manica e quando sfoglia la rosa, no? Dice, posso far giocare questo qui, questo qui? Però c'è un ma. E cioè che questa difesa posizionale potevo accettarla in un momento in cui non c'era questo arsenale offensivo incredibile, adesso che abbiamo un'altra via, un altro sbocco, un'altra uscita, credo che sia il momento di accantonarla e di giocare con il tridente, con Vladimir. Poi magari ci sarà la partita che giocherà Ken, ci sarà la partita che giocherà Quadrado, ci sarà la partita che giocherà Bernardeschi. Però l'impronta deve essere quella. Di tre giocatori che sono messi lì, in avanti, per generare qualità che poi si traduce in occasione di gol per i piedi di Vlaovic. E fidatevi che se Vlaovic ha delle palle pulite da poter giocare e tirare in porta, i gol li fa. E lo abbiamo visto in queste prime due partite dove ha avuto un impatto incredibile, ma io sono sicuro che potrebbe fare ancora, ancora, ancora e ancora meglio. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.